Benvenuti a questa nuova puntata di Qual Buon Veneto, alla scoperta delle meraviglie del Veneto. Il nostro viaggio fa tappa oggi in una cittadina che è a metà fra Venezia e Cortina. Siamo in una cittadina dalla spiccata bipolarità. Siamo a Vittorio Veneto. La città, così come la conosciamo, con il nome che conosciamo, è relativamente moderna. Risale al 1866. Vennero unite due cittadine, Ceneda e Serravalle, per formare una città chiamata Vittorio. In onore di Vittorio Emanuele II. L'appellativo Veneto venne aggiunto soltanto dopo la Prima Guerra Mondiale. Del resto fu qui che si risolse la battaglia fra l'esercito italiano e quello austriaco dopo la disfatta di Caporetto. L'appellativo Veneto venne aggiunto soltanto dopo la Prima Guerra Mondiale. Il nostro viaggio fa tappa. La famosa piazza del popolo, la piazza più importante di Vittorio Veneto. È una piazza che è venuta a crearsi quando sono state unite le due cittadine di Ceneda e Serravalle. La piazza però non era così. Dobbiamo immaginarla in modo diverso. Immaginatela senza le due fontane, senza la fontana dei giardini e senza la fontana posta davanti al municipio. Invece al posto delle fontane c'erano due statue, una di Vittorio Emanuele II e un'altra in onore a Garibaldi. Ceneda è uno dei quartieri, possiamo chiamarli, di Vittorio Veneto. La sua origine è molto antica e il nome suggerirebbe un'origine celtica. Quel che è certo è che fu un insediamento romano molto molto importante, legato come Serravalle alle sorti della vicina Oderzo. Il Duomo di Santa Maria Assunta e Santiziano Vescovo è un edificio religioso dalla storia millenaria. Esisteva già un edificio religioso in questo posto, già prima dell'arrivo del corpo del santo, intorno al VII secolo. L'edificio fu poi ricostruito e risistemato più volte e prese questa forma circa 70 anni fa. Il campanile, invece, è costruito sulla base di un'antica torre di difesa e risale alla fine del 1200. Il quartiere nord di Vittorio Veneto prende il nome di Serravalle. Serravalle ha origini antichissime come quelle di Ceneda. Del resto, Ceneda era il borgo romano, mentre Serravalle era l'avamposto militare a protezione di questo borgo. Già dall'anno 1000 l'economia di Serravalle era già molto sviluppata e importante, ma fu solo con la Serenissima che la sua economia divenne davvero fondamentale per tutta la zona. Il Duomo di Serravalle risale al XV secolo, anche se alcuni studiosi sono dell'idea che sia molto più antico. Comunque, così come lo vediamo, risale al 1779. All'interno troviamo opere di pregio e molto importanti. La pala, dietro l'altar maggiore, ad esempio, è del Tiziano. Alcune sculture sono del Caprioli e del Casagrande. Sopra la stretta di Serravalle vi è il Monte Marcantone. La leggenda, mista a storia, di Santa Augusta riecheggia in questi luoghi da secoli. La storia inizia così, è venuto un re, un re Madruk, che è un visigoto, attorno al Quattrocento, e ha installato, ha costruito un castello. Questo qui era molto cattivo, era un dittatore. Ha avuto dalla moglie una figlia. La moglie, dopo aver partorito, poco dopo è morta. La figlia è stata levata da una baglia cristiana. Madruk era nordico, quindi adorava Odino, eccetera, e i suoi dei. E quando lui si è accorto, ha cominciato a dire non posso io, i miei guerrieri, imporgli Odino e accettare mia figlia come... E quindi ha iniziato a torturarla. Fino che sulla strada, sul sentiero che porta su qui al santuario, hanno, gli ha tagliato la testa. Il santuario è del 1430 circa. Anni dopo è stato costruito questo ristoro del pellegrino, che dovrebbe essere attorno al 1500. E siamo qui, in cima, sopra Vittorio Veneto, con dei panorami bellissimi. È davvero difficile capire dove finisce la storia e dove inizia la leggenda. Però, di certo, una cosa singolare e particolare è che questa storia, o questa leggenda, così curiosa e così ricca di particolari, si narra in queste zone da oltre 1500 anni. Visitando Vittorio Veneto siamo rimasti sorpresi e affascinati da questa meravigliosa cittadina e speriamo tanto sia piaciuta anche a voi. Rimangono ancora tante altre meraviglie da scoprire nella nostra regione. Grazie per averci seguito. A presto. Grazie per aver guardato il video.